Stai qua, allora dici qualcosa, come no? Stai riprendendo un nuovo bar? Beh gli amici del bar Vittoria sono un po' timidi, ma insomma oggi vediamo una bella notizia, una cosa simpatica, gli amici del Caffè Vittoria stanno traslocando vicinissimi e stanno facendo tutto nuovo, qua vedete l'impianto, quindi tutto il bar nuovo bellissimo, ci sono gli operai al lavoro, quindi fra qualche giorno diciamo ci sarà, non sappiamo bene quando ma presto ci sarà il trasloco, bravi complimenti a questi amici del bar Vittoria, scusate del Caffè Vittoria che sono sempre molto precisi, molto puntuali, molto professionali, ed è bello che la città si rinnovi, ci sia sempre, diciamo, insomma che ci sia sempre qualcosa di nuovo e non magari qualche altra butta notizia, ma cosa diranno mai questi del bar Vittoria? Vediamo cosa dicono, quel signore ha il naso fuori, ha il naso fuori, è per sentire il profumo del caffè, va bene dai ci beccheremo un'altra denuncia per violazione della privacy, dai, una più, una meno, è qua con il panorama degli Ibis Sacris che sono ormai stabili, vi salutiamo e buona giornata.